Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di The Man of the Sport ci sono appena concluse tre partite in programma nel pomeriggio di Serie A andiamo con i risultati, il Frosinone fa 1-1 in casa contro il Cagliari mentre poche emozioni al Mappei Stadium dove Sassuolo e Udinese fanno 0-0 mentre grandissima ed anche bella partita tra Torino e Genova finita 2-1 per il Granata andiamo con il racconto delle partite, il Torino, secondo me Torino e Genova è stata la più bella partiamo subito con questa partita, secondo me il Torino a me è nata la vittoria ma succede tutto nel primo tempo dove prima ci sono due occasioni da una parte e dall'altra prima per Piontec e poi per Belotti, i due bomber che si affrontavano in questa partita e poi il vantaggio di Kwame, l'ex Giadella, la scoperta di Perinetti e Preziosi in questa stagione 2018-2019 Kwame porta in maniera del Genova ma poi nel finale del primo tempo l'ex di turno, Ansaldi, pareggia la parita poi calcio di rigore proprio nel finale del primo tempo nel recupero e Belotti torna al gol su calcio di rigore e praticamente finisce qui però la partita perché nel secondo tempo viene sostituito Piontec e molti ci domandano ancora perché ma il Genova crea poche occasioni il Torino avrebbe anche molte, molte occasioni per chiudere definitivamente il match non lo fa, soffre fino all'ultimo, grandi anche le parate di Radu su Iago Falke ma alla fine il Torino vince e torna alla vittoria dopo il paese di lunedì contro il Cagliari invece per il Genova uno stop forse che poteva essere evitato se non venivano commessi quegli errori clamorosi nel finale del primo tempo perché pagano gli errori e secondo me pagherà anche Juric perché questa sconfitta secondo me con un po' più di attenzione difensiva potrebbe essere evitata onestamente andiamo invece nella partita giocata tra Frosinone e Cagliari una partita veramente dai due facce prima il vantaggio del Frosinone con Cassata, l'ex Sassuolo il Frosinone merita perché gioca per un grandissimo primo tempo con grandissime occasioni anche con Ciofani ma più volte vicino al raddoppio il Cagliari invece si difende solamente mi sembrava un po' la fotocopia della partita di lunedì contro il Torino il Cagliari è una squadra in questo momento boh non lo so neanche io cosa stai esprimendo perché non esprime veramente calcio da segnalare nel secondo tempo poi un po' un cambiamento della partita finalmente perché era una partita che non c'erano veramente occasioni il Cagliari forse alla prima grande occasione pareggia la partita con Diego Farias a ritorno a gol Lex Padova e Nocerina Diego Farias l'1-1 che intanto condanna secondo me a perdere due punti il Frosinone che meritava assolutamente per quello dimostrato in campo questo pomeriggio però il pareggio alla fine forse è risolto che più rispecchia la partita perché il Frosinone si è fatto un bel primo tempo ma al secondo tempo un po' si è nascosto e il Cagliari nel finale ha attaccato anche per la vittoria e da segnalare l'espulsione di Barella altra espulsione di questo giocatore che forse è il limite proprio caratteriale di questo giocatore che non riesce a darsi una frenata nei momenti più diciamo importanti delle partite è un'espulsione che costa veramente molto molto caro ma al Cagliari che nel finale con un Barella in più poteva anche portarsela a caso la vittoria invece poche emozioni al Mappai Stadium come abbiamo detto 0-0 tra Sassuolo e Udinese una partita veramente diciamo non segnalano neanche tante le occasioni perché sì Berardi andò vicino al gol più di una volta però l'Udinese oggi andò prende sempre un punticino in trasferta dopo la vittoria contro la Roma nella scorsa settimana quindi ragazzi queste sono state le partite giocate in Serie A segnaliamo anche i risultati della Serie B i due finali delle partite da domenica il Brescia batte 2-0 in casa il Livorno mentre il Lecce fa il colpo grosso a Carpi batte 1-0 con il gol di Lamantia e siamo con questi tre punti molto molto importanti per la classifica per questa reaction è tutto io vi ringrazio per l'attenzione vi aspetto alle ore 20 per la reaction di Chievo Lazio e lasciate un like al video iscrivetevi al canale seguitemi su Facebook e Instagram ciao a tutti ragazzi